Un grande successo, soprattutto dovuto al grande spazio mediatico, che è stato ottenuto grazie all'interessamento dato dai media internazionali che hanno divulgato immagini e notizie legate ai due eventi che per tre giornate hanno registrato la partecipazione di ben 40 binomi. Il bilancio è sicuramente positivo, i media sono stati veramente tanti, il ritorno mediatico anche su tutto il territorio, non solo per la nostra struttura, è stato veramente importante. Quale occasione migliore se non questa per festeggiare i nostri 50 anni? Si parte da lontano, però i cavalli sono sempre stati qui all'Alabirdy, l'Alabirdy era sinonimo di turismo di cavalli ma proprio nei tempi ancora molto indietro. Oggi la struttura si è allargata e la domanda che mi viene spontanea, siete partiti con dei campionati locali, campionati italiani, adesso sono il mondiale, dove vogliamo arrivare? Adesso stiamo cercando di allargare il più possibile anche altre discipline, non solo l'Endurance, già quest'anno abbiamo ricominciato a fare altre discipline e per i prossimi anni senza ombra di dubbio andremo ad allargare le manifestazioni ad altre discipline, sempre equestri e non. Mi sembra di vedere molte persone in giro, sicuramente gli alberghi sono pieni perché noi diciamo che non abbiamo più disponibilità da più di un mese e mezzo e anche cercando di aiutare le persone che dovranno cercare, i team in particolare che vengono dall'estero a cercare ospitalità nel territorio, non è stato facile perché appunto nella prossimità del territorio non c'era più disponibilità.